Io credo sia molto importante, anche quello che ha avuto l'incontro che ha avuto con Hollanda, credo che facciano parte proprio di questo lavoro qua, cioè trovare una convergenza su un'Europa che ha una dimensione di crescita più significativa di quello che ha avuto fino ad oggi, ma si fa solo convincendo e lavorando con i nostri partner, non si fa in altro modo.